Buonasera a tutti, vi presento un mio paziente che è stato operato alla spalla sinistra, è stato effettuato una ricostruzione della cuffia dei rotatori, aveva una bella lesione ed è stato effettuato anche una tenodesi del capolungo del biciclete, o meglio è stato staccato dalla sua inserzione e posizionato nella parte più bassa dell'omero. Oggi, dopo circa un mese dall'intervento, abbiamo fatto un bel protocollo riabilitativo e abbiamo ottenuto questi risultati. Vediamo, portiamo in alto il braccio, bravo, fin dove arrivi. Ok, perfetto. Per essere passato poco più di 20 giorni, diciamo, stai in un ottimo stato. Di dolore come stiamo messi a dolore? Puoi scegliere? No, il dolore è normale, è abbastanza, cioè non è che mica molto male. Ok, è andato via via, è andato via, è andato via, è andato via via. Ok, la terapia si è basata prevalentemente sul ripristino dell'articolarità, quindi abbiamo mosso il braccio in maniera passiva, evitando il dolore e rispettando anche i tempi di guarigione. Grazie. 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 Grazie.